...attenti, un bel regalo alle mamme presenti! Ciao Sabrina, oggi è la festa della mamma. Hai pensato a che regalo fatti? Sai, è molto difficile. Puoi fare alla mia mamma molte cose, però quando arriva il giorno della sua festa, non ho mai un sordino per farti un regalo. Ma non ho ancora...